L'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi hanno patteggiato la pena. Assolto Alfredo Berni, ex vicepresidente, condannato invece ad otto mesi, Rossano Soldini, consigliere nel CDA. Questa la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze per i quattro vertici di Banca Etruria riguardo il crack dell'Istituto di Credito e il filone, quello della Banca Rotta, che avevano scelto in primo grado il rito abbreviato. Arezzo ha i suoi colpevoli oggi, su quello che è stato un disastro, che è stato non soltanto economico, ma è stato quindi anche un disastro sociale. Rimane l'amarezza di una realtà bella come Banca Etruria, che ormai quindi è morta. Bronchi e Fornasari hanno patteggiato la pena, tre anni e quattro mesi di reclusione. Rossano Soldini, invece consigliere nel CDA di Banca Etruria, è stato assolto per le vicende sacce, città Sant'Angelo, ma condannato ad una pena di otto mesi per le altre contestazioni. Alfredo Berni è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Con il patteggiamento in appello di Bronchi e Fornasari abbiamo quindi stabilito una serie di anche responsabilità che ci sono state nel crack della vicenda. E questo penso sia un soldievo anche per tutti i risparmiatori, che questo si sono sentiti anche loro sotto processo, quasi come se se la fossero cercata, diciamo la disgrazia di aver perso quindi i loro risparmi. In più c'è stato quindi anche, ora dobbiamo leggere le motivazioni, anche quindi la conferma, anche se appena ridotta, per un amministratore senza delega, che potrà essere estremamente rilevante per poi l'altro appello che riguarda proprio tutte le varie delibere e che è stato oggetto di rito ordinario impugnato poi anche dalla Procura. che auspico venga fissato quindi velocemente, per evitare sotto le bancarotte semplici che ci sia la tagliola poi della prescrizione.